Ecco questo è il marina di Gerba, gli diamo un'occhiata, non so se mai Oros dovesse venire a prendere la residenza qui. Insomma andiamo a dare un'occhiata. I soliti galeoni, ecco le berche a vela ci sono, non sono molte, però ci sono. Quindi in fondo ci sono i lift per le barche, ora ci informiamo su fondali, ma ci sono perché se sono entrate queste, ci parlavano di correnti, ora ci informeremo anche su queste. Il porto è piccolino, però è grazioso, insomma è papabile per poter ospitare Oros, anche se ancora è del tutto prematuro parlarne. Qui anche a Gerba, ma insomma in tutti i marina tunisini, ci sono tutte queste strutture dentro con degli appartamentini e poi pieno di bar e ristoranti. Ecco questo è il sull'esterno del porto, comunque ben riparato, c'è il porto pesci all'interno, non questa. Comunque qua ci sono tutte le barchette dei pescatori, anche i ristorantini sulla spiaggia e qui il sovraluogo era fatto anche in questo ristorante di qui. Insomma a me Gerba sta piacendo molto, è un piccolo paradiso. Vediamo un po' come si mangia qui. Ecco qui siamo all'interno del posto du Pesci, il posto dei pescatori. E qui andiamo se lo riesco a farvelo vedere. E anche la parte posteriore del cantiere. Insomma qui c'è posto per barchia a vella fino a 16 metri, non arriverò mai a queste misure. I prezzi sono molto più bassi di quelli che ci sono a Mamette e anche a Monassir. C'è anche un piccolo cantiere dove fare lavori, dicono che lavori bene, se devi fare carena è più che buono. Le persone sono gentilissime, molto molto gentili. Abbiamo parlato anche con un agente della Guardia Costiera tunicina che ha spiegato molto anche del posto. Per esempio qui c'è una grossa escursione di marea. Ma non è un problema perché le barche a vella, le barche di portisti sono sistemate su dei pontili galleggianti che non hanno le catenarie ma sono sorrette in maniera costiale su dei piloni. Si alza la marea, si alza anche il pontile, per cui non bisogna regolare le cime di ormeggio. Mi diceva questa gente della Guardia Nazionale che c'è un problema, che però è un problema, si fa per dire, essendo un porto chiuso dove non c'è un grosso ricambio d'acqua, si crea sotto le barche più facilmente della vegetazione. Se la barche verrà qua avrà già fatto la manutenzione alla carena, l'antivegetativa e comunque se ogni due mesi gli si danno 50 dinari a un tubo che la pulisce non è un problema. Insomma, finora questo sopralluogo fatto a Gerba mi sta piacendo e mi sta piacendo molto.